E restiamo a Roma, tornano in piazza i negazionisti, protestano contro l'uso della mascherina e contro quella che definiscono la dittatura sanitaria. Rispetto delle regole, ribadisce il Viminale. Andiamo in diretta da Jacopo Cecconi. Qual è la situazione? Abbiamo visto baci a bracci e strette di mano qua alla bocca della verità, perché questa è una manifestazione orgogliosamente negazionista. Ci sono molti qua che negano l'esistenza del virus. Sono attesi anche gruppi di estrema destra e poi complottisti vari, antivaccinisti. Per ora è tutto tranquillo, ma la polizia, il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha detto chiaramente che non saranno tollerate violazioni dei regolamenti anti-Covid. Dunque più o meno tutti hanno la mascherina, anche se molti la tengono abbassata. Sono due le piazze oggi a Roma. Questa è piazza San Giovanni che invece si dice non negazionista, ma protesta contro quella che chiama una sorta di dittatura sanitaria. Dicevamo per ora tutto è tranquillo. Ci sono più forze dell'ordine che manifestanti. Linea allo studio. Nessuno resti solo. La pandemia aumenta.